Allora, diamo il benvenuto a Marcello Magnani che è un manager di atleti di livello internazionale nonché direttore tecnico del campaccio e questo è il suo decimo campaccio, quindi una ricorrenza importante. Allora, che gara sarà domani? Chi ci sarà? Anticipaci qualcosa. Beh, allora, quest'anno che arriviamo dopo la stagione olimpica abbiamo cercato di riportare qui qualche protagonista delle Olimpiadi di Rio e per cui abbiamo qua tre medaglie delle ultime Olimpiadi, abbiamo le prime due oro e argento dei 1500 metri femminili e la medaglia d'oro dei 3000 siepi maschili. Nella fattispecie è Fate, Kipi e Gon e Ele Nobili per i 1500 femminili e cos'è il susscritto per le siepi maschili. In più abbiamo cercato di portare comunque, essendo un cross, un campione del mondo abbiamo la campionessa del mondo di cross Agnes Tirop, nelle donne. Abbiamo una medaglia degli ultimi campionati del mondo su pista la vice campionessa del mondo dei 10.000 metri che è l'Eteburca. Abbiamo il campione in carica dell'anno scorso Imane Merga, il secondo dell'anno scorso Mukhtar Edris che è anche bronzo degli ultimi campionati del mondo di cross. Per cui abbiamo cercato di dare non solo qualità ma anche profondità al campo dei partenti. E degli azzurri invece chi ci sarà? Degli azzurri abbiamo due medaglie degli ultimi europei di cross che sono fatti in Sardegna. Infatti abbiamo il vice campione europeo junior Ioann Schiappinelli che è anche campione europeo junior in carica dei 3000 siepi e Ieman Krippa che ha vinto il bronzo nella gara andal 23. Delle donne invece? Delle donne abbiamo avuto purtroppo nell'ultima settimana la defezione di Veronica Inglese che è vice campionessa europea di mezza maratona. Ma purtroppo l'influenza che le ha impedito di partecipare anche gli europei di cross a Kia le ha avuto una coda piuttosto lunga speciale in abbassamento di valore di ferro e non era a posto per gareggiare per cui lei di venire qua con una gara di questo livello a fare la figuretta non se l'ha sentita. Per cui purtroppo Veronica doveva essere presente e non ci sarà. Abbiamo Sara Dossena che ha comunque appena vestito la maglia azzurra agli europei di cross ed è anche una triatleta di ottimo livello e abbiamo Sara Galimberti. La sfortuna è che domani è concomitante anche con questa gara a livello europeo. Esattamente. È ovvio che ci siamo sentiti in questi mesi per l'organizzatore di Edimburgo cerchiamo di, ognuno ovviamente cerca di tirare acqua al proprio mulino però comunque cerchiamo anche di non pestarci i piedi rispetto a qualche regola di buon vicinato per cui sapendo che a Edimburgo ci sarebbe stata come sempre la selezione europea contro la selezione americana, contro la selezione britannica cerchiamo di lasciare spazio in quelle categorie a una gara che sarebbe il giorno dopo di noi per cui è ovvio che alcuni protagonisti dei campionati europei di Kia saranno Edimburgo ma non li abbiamo cercati apposta perché cerchiamo appunto di rispettare anche loro. Il tuo rimpianto riguardando l'edizione del 2015 quando Lalli e Meucci avevano lottato per il successo e condizionai di non avere nessuno dei due? Ebbene in questo momento entrambi stanno riprendendo da due infortuni piuttosto seri nel caso di Daniele Meucci che è venuto a Campaccio diverse volte e ogni volta che è sano non ha mai mancato la presenza Daniele si è fatto una fattura durante le Olimpiadi e per questo che lui si è ritirato durante la maratona olimpica e ha ricominciato a correre, ma io non dico ad allenarsi seriamente ha ricominciato a correre più o meno un mese fa dal 21 agosto che era la data della maratona olimpica per cui l'infortunio è piuttosto serio quindi Daniele fino a febbraio difficilmente lo vedremo a gareggiare Senti invece a livello femminile la possibilità di avere magari una del buono di cui si sono perse un po' le tracce La del buono doveva essere presente però già prima dei campionati europei di cross mi è stato fatto sapere che non sarebbe venuta come parola nagareggiato agli europei di cross perché ha avuto l'ennesimo anche se mea culpa non so quale l'ennesimo infortunio che penso che negli ultimi due anni Federica si è infortunata almeno 4-5 volte E giustizia tu? No No Praticamente ha fatto solo il 2014 giusto? Sì, ha fatto l'inverno del 2015 dove ha vinto il bronzo agli europei indoor se non sbaglio ma già lì ha corso al limite dell'infortunio perché lei aveva già male a un piede il giorno durante i campionati europei indoor per cui già è arrivata al limite lì Sì è vero Riccardo tu prima hai citato la gara di Lalli e Meucci alle spalle dell'americano non pensi che due africani di meno domani e due italiani di più sarebbero stati ben voluti ben graditi pensando magari se non a due inglesi i due che hanno fatto l'europeo che erano ben validi non so, due belgi ci saranno degli atleti di un certo valore cioè di poter mettere anche i nostri a livello un po' europeo che tutti questi keniani insomma ci schiacciano ci deprimano Hai perfettamente ragione ma ci sono due ordini ci sono due categorie due tipi di risposte che ti devo dare una è che tutti gli italiani sani ce li abbiamo quelli che sono in grado di stare in piedi sono tutti presenti dall'altra parte La rosa no La rosa no La rosa non deve essere disponibile per fare i cross io devo ovviamente se un atleta mi dice non mi interessano i cross prepara una maratona primaverile io non posso obbligarlo a venire a Campaccio Beh anche perchè comunque non aveva dimostrato di essere in condizione per fare i cross no esatto però Stefano La Rosa comunque è un nome è un atleta olimpico non so fosse stato disponibile per il cross avremmo fatto di tutto per portarlo proprio non è mai stato nelle liste di atleti disponibili per venire qui l'altra l'altra risposta che mi sento di darti Ennio è il Campaccio fa parte del circuito IAF Permit dove abbiamo degli obblighi messi dalla IAF da regolamento dove tu devi portare ogni anno sei uomini e sei donne considerati dalla IAF qualificati per qualificati noi intendiamo un atleta che o è arrivato nei primi 30 all'ultima edizione mondiale di cross o è nelle gradatorie mondiali del 2016 in questo caso nei primi 30 una disciplina compresa fra i 1500 e la maratona contando che... e devono rappresentare almeno 5 paesi diversi quindi tu non puoi prendere... quindi se tu devi rispettare questi criteri credimi che già lì... ragazzi abbiamo un budget da rispettare e già lì tu per rispettare questi criteri più portare gli italiani sani che hai già tu li finisci fondi detto questo è ovvio che qualche europeo in più sarebbe... avrebbe fatto piacere ma rientra in quella ottica di non per starci piedi con Edimburgo perché il ragionamento che loro hanno fatto è un certo tipo di atleti, quest'anno voi volete le medaglie olimpiche noi non li andiamo a cercare in modo che non si facciano aste stupide che fanno male a noi e fanno male a Edimburgo dall'altra parte dicono cercate di fare in modo che gli europei che dovrebbero far parte della selezione europea per poi venire a Edimburgo non andarle a cercare tu in modo che ci ritorni il favore dall'altra parte per cui con una gara grossa come Edimburgo e tradizione come Edimburgo il giorno dopo è ovvio che questo tipo di discorsi sarebbe scemmo non farli perché presentate il campaggiero tre settimane prima dopo quando arriva il momento della gara mi cambiano sempre cinque sei atleti quattro e poi non sono gli ultimi arrivati sono sempre i primi e questo è un errore secondo me ok allora la presentazione di una gara con il campaccio visto che noi siamo con le feste addosso fondamentalmente tu capisci non puoi farla durante le festività natalizie quindi va fatto un attimo prima non puoi farla semplicemente il giorno prima come oggi e quindi come data l'avete fatto il 13 il 13 di dicembre sono tre settimane prima sì ma c'è 22 sei troppo stanatale non lo puoi fare e ti dico che abbiamo perso alcuni atleti e alcuni mi hanno dispiassuto in modo allucinante ma Poltanui faccio un esempio il vice campione olimpico dei 10.000 metri doveva venire Poltanui vive in Giappone il suo club fino al 2 di gennaio che fanno la presentazione ufficiale non l'ha autorizzato ad andare a Tokyo a consegnare documenti per fare il visto quindi tu capisci che quando tu non sei autorizzato a lasciare la sede della società fino al 2 di gennaio non hai fisicamente il tempo per andare a farti un visto è successo che ad esempio Ruth Gebet campionessa olimpica delle siepi e primatista mondiale delle siepi è caduto nell'allenamento e si è fatta male per cui quest'anno una delle scelte di avere un cast così profondo quindi non solo con uno o due fari ma avere diverse luci dentro questo cross era proprio perché sappiamo che con le feste ridosso gli atleti cambiano manager gli scade il passaporto non ti danno il visto oggi con la questione del terrorismo che c'è in giro per il mondo alle volte vengono proprio rifiutati i visti tu consegni documenti in ordine e tutto non ti danno il visto per cui sappiamo che rischi di perdere dei pezzi per strada e per cui lo metto in conto ma questo accade quasi tutti gli anni eh ma noi siamo il 6 gennaio accadrà sempre come so cioè io quando vado alla presentazione vedo dei nomi quando c'è la gara sono degli altri e questo ti ripeto essendo a cavallo dell'anno e con ambasciate chiuse federazione chiusa e così via purtroppo è una cosa di mettere in preventivo noi cerchiamo di muoverci molto per tempo io cerco già verso al massimo metà novembre di avere l'80% della gara fatta proprio perché voglio dare a tutti i manager che poi devono fare i visti e così via tutta la documentazione pronta per tempo ma so che statisticamente come dici tu da 3 a 5 sempre succede e sempre succederà capita che anche gare su strada, maratone, molto più avanzi dell'anno affrontino questi problemi noi che siamo con Natale, Capodanno e l'Epifania di mezzo dove c'è il CONI chiuso la federazione è chiusa sappiamo che dobbiamo mettere in preventivo di perdere qualche nome per strada e se il nome non è di richiamo uno se ne fa una ragione molto più facilmente quando uno perde un 10 campione olimpico o una campionessa olimpica siamo i primi di essere dispiaciuti ma credetemi la burocrazia impone di far questo chi vince domani? allora io vi dico che ho visto molto bene a Bolzano Iram Barut no Iram Barut ha vinto la Lugia a Roma Dries Dukta e Dries penso che Andy Kipruto stia bene perché comunque dopo il campaccio va a correre ad Antrim in Inghilterra per cui se ha pianificato di fare due cross secondo me vuol dire che non li va a fare cioè un campione olimpico un contro ne fa uno può anche farlo giusto per fare la marchetta ma uno che mette in preventivo di fare due cross durante l'inverno vuol dire che in qualche modo l'ha preparato poi magari non è nella stessa condizione in cui cade estate quando corre 8 minuti sulle sepi ma penso che sia un buon un buon Kipruto nelle donne mi dicono star molto molto bene Elena Nobili Elena Nobili è una che non ha mai fatto i cross il suo manager che è lo stesso di Moffaraj di Volt per intenderci mi ha telefonato lui e mi ha detto guarda tratta il meglio possibile ma cerchi fai in modo di prenderla perché Elena Nobili sta veramente volando non fai cross ma per fare le attività indoor che le voglio far fare quest'inverno un cross in questa data è fondamentale e per cui mi ha pregato di prenderla io dico guarda quando mi pregono di prendere una vice campionista olimpica io mi inorgoglisco sempre anche perché vedo che il campazzo in questi anni è diventato veramente un cross in cui la gente gli atleti ambiscono a venire non devi più cercare di convincere a venire ma se tu ti permette di scegliere chi viene che non viene e questo penso che sia un sinonimo di crescita un sinonimo di crescita